Il 3 febbraio alle 17.45 ricomincia l'Università Senza Età. Nei locali della parrocchia di San Pietro si susseguiranno nuove lezioni del secondo semestre, a partire da quella di anatomia del sistema nervoso centrale e periferico, all'interno del corso Corpo e Mente seduti a tavola, in cui si parlerà anche di donazione degli organi, arte, danze e persino di cambiamenti climatici. Ampio spazio alle figure femminili nel corso di storia, cultura, immagine e rappresentazione, dalla scrittrice nissena Elvira Mancuso alle madri costituenti, dalle scienziate del Novecento alle donne nella Divina Commedia e non solo. Nel mese di maggio inoltre si svolgerà anche un altro corso su uomini illustri e astronomia e infine ogni martedì le lezioni in inglese iniziate già a metà novembre. Ritorneremo dal 1 febbraio ancora una volta presso la parrocchia San Pietro di Caltanissetta nell'auditorium Muzignor Naro con ingresso da via Paolo VI nel retro della chiesa. Buona la partecipazione anche in tempi di Covid a tutti i corsi realizzati e delle novità in vista a partire da febbraio. Il corso Sicilia, immagine e rappresentazione comincia a respirare in maniera ancora più ambia, non solo Caltanissetta, non solo la Sicilia, ma storie, culture, immagine e rappresentazione. Un'ulteriore novità, quello stesso corso, da marzo a maggio, il 90% delle lezioni sarà tutto dedicato a delle donne illustri, che hanno dato lustro alla società e quindi un taglio, un'attenzione particolare alla figura femminile, al genio femminile. E poi un altro corso che si avvierà per il mese di maggio, Astri che non si spengono, il ricordo degli uomini illustri con il rapporto con l'astronomia. E il tradizionale, ormai tradizionale corso, corpo e mente seduti a tavola, con una innovazione, la relazione delle arti belle, delle belle arti, la musica, la danza, il teatro, il cinema, la poesia, in relazione con la salute. Come sempre a coordinare il tutto saranno le professoresse Fiorella Falci, Cettina Ginevra, Maria Lupo e come sempre aspettiamo tutta la cittadinanza. L'ingresso è gratuito, non sono previsti esami finali, occorre ovviamente avere il green pass, occorre avere la mascherina FFP2 e quindi aspettiamo tutti voi con gioia.